Bene, vediamo ora come abilitare, oltre al fatto che qui abbiamo visto il trigger, cioè un'animazione, che quando la facciamo scattare praticamente ci fa attivare il nostro cubo, quindi vedete questo cubo che si muoveva e poi possiamo fargli fare le sue animazioncine, abbiamo visto prima, ma quello che vogliamo fare adesso è fare qualcosa al cubo, adesso per semplicità in questo piccolo video farò soltanto apparire o sparire il cubo mettendo un'area dove posso camminare o eventualmente portare un oggetto, e poi farò vedere anche appunto come si fa a prendere un oggetto, anzi la cosa più semplice in assoluto è mettere un oggetto che può essere raccolto e quindi lo facciamo subito perché è facile e breve, quindi praticamente nella nostra scena che è questa, introdurremo un 3D object, che sarà ad esempio un cilindro, questo, lo restringiamo in modo tale che sia un pochino, che sia un pochino, insomma piccoletto che si possa prendere, glielo mettiamo un po' vicino, ecco questo oggettino lo vogliamo praticamente raccogliere, quindi per raccogliere è sufficiente aggiungere un componente che si chiama vrc.cpickup, allora a questo punto nel momento in cui lo raccogliamo, cioè mettiamo semplicemente questo script, lui diventa automaticamente prendibile, quindi noi facciamo il play di questa scena, e vedremo che abbiamo vicino a noi, qui, questo, vedete che a questo punto c'è hold to grab, noi lo prendiamo e lo teniamo in mano, e poi se puntiamo in una certa direzione, lasciamo il mouse e lo spariamo via, Ora, la velocità con cui si spara inizialmente è molto grossa, io tipicamente l'ho ridotto qui, 0.1, 0.1, perché almeno con la tastiera ho visto che così viene rilasciato in un modo più normale, però può servire per lanciare un pallone, ad esempio per giocare già, fare già una partitina di calcio o cose del genere, no? Quindi, ad esempio, se riprendiamo questo, lo prendo, lo lascio, vedete che lo butto, e va, insomma, e scivola, ed è un oggetto fisico, in questo caso andrà per terra. Anche hold to grab credo che si possa cambiare, qui orientation, ah, manipulation on equiped, insomma, ci sono un po' di cosette che possiamo fare, ma adesso, ah, qui ci sono possibilità di orientarlo a seconda che sia indossato in qualunque direzione, oppure soltanto come presa, oppure come pistola. Ora, vediamo invece il trigger, cioè voglio creare qua un'area, che sarebbe un cubo, e questo cubo voglio che quando ci entro dentro, ci cammino dentro, faccia sparire, faccia qualcosa, quindi in questo caso faccia sparire un, l'altro, l'altro cosa. Allora, qui la prima cosa è che, visto che questo lo voglio fare come trigger, e quindi, tra l'altro, vorrei vederlo anche dove sono con il vrc word, che è qui, visto che non si vede nella scena, uso un piccolo trucco che volevo dire qua, cioè se cliccate su questo blu, questo cubo blu, potete selezionare, ad esempio, il blu, e rimane praticamente un puntatore per gli empty, oppure addirittura potete mettere un simbolo, no? Quindi potete praticamente lasciamolo, così sappiamo che noi ce lo vediamo davanti, e abbiamo questo cubo che rappresenterà poi il nostro trigger. Trigger vuol dire un'area che quando entro poi succede qualcosa. Allora, quest'area tipicamente la facciamo is trigger, fatta così, poi tipicamente i tutorial suggeriscono, giusto per vedere queste aree di trigger in fase di emulazione, c'è un trigger material, ci sarebbe stato trigger area material, questo qua lo mettiamo nel cubo, lo fa diventare di un azzurrino, quindi praticamente così possiamo capire che le aree azzurrine, anche in debug, sono quelle che sono oggetto di trigger, ma soprattutto la cosa più importante era il fatto di questo is trigger. Poi, affinché, adesso proviamo a farlo senza metterci un rigidbody, ma mi sa che bisogna metterci anche un rigidbody, e nel cubo questo, adesso ci metteremo il componente udon behavior, e gli metteremo new program, come abbiamo visto, open udon graph, e qui gli mettiamo al solito, come è andato dal cubo, questo cubo, lui si dimentica sempre di mettercelo qui, quindi lo riportiamo, questo qui, chiamiamolo F2, chiamiamo trigger, e poi gli mettiamo il cubo qui, altrimenti non funziona tutto il resto, e di questo cubo vogliamo dire che quando il player entra nell'area blu, quindi nel trigger di questo oggetto, noi siamo dentro il trigger adesso, quindi facciamo un, creiamo un nodo, che sarà, aspettate, bisogna sempre, ok, deselezionare tutto, creiamo un nodo che diventerà uno dei trigger, e diciamo che l'evento che ci interessa è il player trigger, event on player trigger, enter, che è questo, lo mettiamo qua su, quindi noi vogliamo che praticamente il cubo, venga disattivato quando noi entriamo, quindi facciamo un set active, che è questo, lo vogliamo vuoto, quindi qua gli mettiamo che quando il player entra nel trigger, sparisca, perfetto, quindi a questo punto, se noi facciamo il play di questa scena, a meno di un rigid body, che adesso vediamo se è necessario fare, ok, quindi praticamente se noi attraversiamo, vedete che infatti, ah no, adesso ha funzionato, quindi siamo entrati nel coso, quindi non c'è bisogno di averlo come rigid body, perfetto, quindi effettivamente abbiamo attivato il fatto che praticamente entrando il cubo sparisca. Ora vogliamo che invece il cubo sparisca anche lanciandogli addosso in qualche modo la chiave, supponiamo che questa sia la chiave, questa qui che era il cilindro, la chiamiamo chiave, e questo cubo in realtà più che cubo lo chiameremo per esempio porta, vuol dire che quando ci avviciniamo con la chiave nel trigger, che sta davanti, e questo più che trigger sarà la serratura, quindi quando avviciniamo la chiave alla serratura, vogliamo che la porta sparisca, cioè che si apra sostanzialmente, e questo è la cosa molto semplice. Quindi noi andiamo sempre nella nostra serratura, e l'abbiamo già aperto qua, quindi gli mettiamo, anziché on player trigger event, gli mettiamo un nodo che sarà sempre un trigger, ma event on trigger enter, quindi se qualcosa entra, qui, quindi se qualcosa entra gli faceremo fare esattamente la stessa cosa, cioè se entra qualcuno, cioè se entra un oggetto, gli possiamo dire di cancellare la porta, quindi se entra un oggetto qualunque in questo caso, che è la chiave, che posso fare il pick up, ho automaticamente anche questo effetto. E poi facciamo che quando, qui facciamo CTRL D, quindi invece facciamo, giusto per prova, che quando, e qui mettiamone ancora che è sempre il cubo, che sarebbe in realtà la porta, quindi quando entra invece il nostro giocatore, riappare la porta, questo cubo, che praticamente facciamo rename, facciamo la porta, ok, quindi diventa un pochino più comprensibile. A questo punto quello che succede è questo, che se noi andiamo e vediamo il programmino funzionare, possiamo raccogliere questa, che sarebbe la chiave, e poi buttarlo, in teoria questo era il concetto che avrebbe dovuto farlo sparire. Aspettate, l'ho perso, vediamo un po', vediamo un po' se è vero quello che sospettavo che la porta deve avere, ah sì, la porta, credo che sia questo, deve avere un rigid body, questo, ho fatto tutte le prove così, gli mettete fisse le dimensioni, perché se no si muove o attraversa il pavimento, per qualche motivo, quindi a questo punto abbiamo messo il rigid body attaccato anche alla, dunque questo qui era il cube in realtà, no? Però in realtà era la serratura, quindi rimuoviamo il componente, andiamo nella serratura, che era quella, e nella serratura gli mettiamo il componente rigid body, quindi questo, gli mettiamo il constraint, e a questo punto, a meno le prove che ho fatto prima, dovrebbero funzionare, andiamo un po', quindi siamo in play, facciamo close, prendiamo la chiave, gliela spingiamo, e non ha funzionato. Ok, allora in realtà sembra che il problema sia sempre il solito, che si dimentica le variabili pubbliche, quando l'ho rinominato è tornato vuoto, e quindi dobbiamo metterci di nuovo, in questo caso la porta, ok, contro l'S, rifacciamo, rifacciamo questo mestiere, e vediamo se, ok, prendiamo questo, glielo buttiamo, e vediamo che ha funzionato, e vediamo anche che se, in teoria, eh ma perché c'è quello dentro, forse lo buttiamo, via, ecco, in teoria dovrebbe anche riapparire, allora, in realtà stava funzionando, ho solo visto adesso, come sono le cose inutili, quindi la serratura, non deve essere, non deve avere il rigid body, la chiave, c'è il rigid body, perché glielo metto il VRCPK, quindi la serratura in realtà è più semplice di quello che sembra, deve avere soltanto questo, questo box collider, con il trigger, e il sorgente, che è questo, ho venuto un graph, che è questo signore qua, dove praticamente abbiamo, se entra qualche cosa, allora deve spegnere, la porta, e se invece, io adesso l'ho fatto solo per debug, se poi entra il giocatore, lo riaccende, quindi questa cosa qua, l'ho provata due secondi fa, e funzionava, quindi la riproviamo, adesso, qui, lo mettiamo a schermo intero, close menu, quindi raccogliamo la chiave, se l'avviciniamo, vedete che fa sparire, la porta, e poi se mi avvicino ancora, adesso sembra che non sia riapparsa, ma in realtà, perché è un difetto ottico, probabilmente avrei dovuto farli colorati, vedete che riappare, quindi io praticamente posso, in ogni momento, anche buttargli, adesso qui in realtà, deve essere più vicino, per buttargli, ecco, se gli butto la chiave dentro, la chiave praticamente, ha l'effetto di aprire la porta, allora questo è un effetto, che è molto interessante, perché apre le porte, ha un sacco di cose, in tipo, per fare escape room, allora l'idea non è tanto, di buttargli qualunque oggetto, ma di buttargli un oggetto, che abbia, un determinato nome, quindi questo si può fare, anche in, open udon sharp graph, è più semplice da fare, con c sharp secondo me, però si può fare anche col graph, praticamente per farlo, occorrerà, data la serratura, quindi togliamo questo, ok, vedete che c'è il, l'open udon graph, bisogna dirgli che, quando si avvicina, un oggetto, no, un oggetto questo, bisognerà vedere, il nome dell'oggetto, se coincide con una certa, se il nome dell'oggetto, che gli stiamo avvicinando, è effettivamente uguale, a qualche cosa, e questo, si farebbe in realtà, con un nodo branch, ok, e questo qui, praticamente, dovrebbe verificare, se il, qui estraiamo dal collider, il name, quindi prendiamo il nome, del collider, e poi dovremmo vedere, se questa, il nome dell'oggetto, che stiamo tirando dentro, lo dovremmo confrontare, è arrivato un oggetto, e l'oggetto, che lo vogliamo confrontare, lo vogliamo confrontare, con una stringa, quindi se il nome dell'oggetto, si chiama ad esempio, x, y, z, e qui abbiamo praticamente, il risultato, quindi abbiamo il confronto, di questo, allora, quindi sarebbe il, string string, boole, no, ok, ho trovato il nodo giusto, il nodo giusto, non era il compare, ma le quality, e quindi, se dato l'oggetto, on trigger, enter, si vede, il nome dell'oggetto, che sta collidando, si prende questo, appunto il nome, e se il nome vale, effettivamente, x, y, z, allora, cosa succede? Se è vero questa cosa qua, metto a false, l'istanza di quell'oggetto, e cioè faccio sparire il cubo, questo vuol dire che, in questo caso, se io faccio il, play, ok, quindi abbiamo il nostro menu, se prendiamo la nostra chiave, e gliela sbattiamo addosso, vedete che non succede niente, perché il nome di questo oggetto, è chiave, ma, in teoria, se noi facciamo, un altro oggetto, ad esempio questa, che è la chiave, facciamo un control D, perché è pickable, quindi diventa chiave 1, e la mettiamo, quindi questa è la chiave 1, e la chiamiamo, vi ho detto, x, y, z, allora, avendo la duplicata, questa qui è pickable, quindi tanto come l'altra, perché ci avrà anche il suo pick up, quindi, di queste due chiave, una apre, l'altra no, quindi facciamo il play, e vedremo, e vedremo che, vediamo, ecco, allora, praticamente questa, che è la prima chiave, se gliela butto, non ha effetto, ma se prendiamo la seconda chiave, che è quella giusta, se gliela butto, vedete che fa, l'effetto fa sparire, quindi questo è già, un ottimo modo, per preparare, dell'escape room, che possono, e che funziona, anche di nuovo, il, tutto il sistema, di, che abbiamo messo, in gioco, quindi a questo punto, abbiamo, tutti gli strumenti, per inventarci, una stanza, in cui abbiamo, messo, degli pickable, in posti opportuni, in modo tale, che gli avatar, possono entrare, possono raccogliere, questi oggetti, e se sono quelli giusti, possono poi, buttarli, verso, delle specie di serrature, e per vedere, se aprono, o meno, le porte, e direi che, questo è, sostanzialmente, già, una cosa, molto, molto, interessante,